Ben arrivati da Autoaccessore Fratelli Puglia, oggi vediamo il nostro collaboratore tecnico dell'ispettore della linea revisione che sta eseguendo il corretto lavoro. Stiamo effettuando la revisione a questa ria Pierio, che è la prima volta che viene a revisione. La signora ci ha potuto trovare da? Sola consiglia, la nostra signora è una compaesana e sta effettuando la revisione. Vediamo il nostro tecnico che ha messo tutti gli opportuni attrezzi per effettuare la corretta revisione. La macchina è in moto, per vedere come vintra non si sente nulla, è perfetta. Il nostro tecnico sta valutando i vari parametri del veicolo. Adesso vediamo il gas di scarico. Una sonda specifica analizza tutti i gas. Questo è un lavoro eseguito da Autoaccessore Fratelli Puglia a Sala Consierina. Salutiamo la signora che ci ha potuto trovare da Sala Consierina.